E' un'idea di un'idea di un'idea di più. Tutto parte da un'idea. Quando si è chiusi in casa, dopo un po', si inizia ad elencare tutte le cose da fare, tutte quelle faccende da sistemare, le persone da sentire, tutto per dare un senso al tempo. E nel tutto, salvi questo. Chi l'avrebbe mai pensato che nell'arco della vita saremmo dovuti finire così, segregati in casa? Che poi, ai nostri italiani, piace stare in casa, no? Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. La quarantena si fa sentire e alla fine finisce dentro un tubo.